Bisogna dire che ormai ci stiamo abituando a voler soffrire, siamo una squadra che gli piace soffrire evidentemente. Abbiamo impostato la partita con un po' di superficialità, riuscendo a segnare quasi subito e poi come al solito ci siamo rilassati e abbiamo rischiato di compromettere tutta l'incontro prendendo due gol in controbieto che si potevano tranquillamente evitare. Squadra avversaria che aveva un ottimo palleggio ma che onestamente devo dire era alla nostra portata, il problema è nella nostra testa. Il secondo tempo siamo riusciti a mettere in campo quello che volevamo fare e chiaramente la partita è stata più in discesa. Potevamo chiudere sicuramente prima l'incontro con varie palle-gole che abbiamo sprecato però alla fine l'importante è aver ritrovato lo spirito di squadra e il gioco che vogliamo esprimere. Quando non c'è la concentrazione giusta la difesa è il primo posto dove si evince questo calo di tensione perché si fanno degli errori che hanno delle conseguenze. Centrocampo, perdi una palla, c'è il tempo di recuperare un attacco, sbagli il gol, ti rifai dopo. In difesa prendi gol, quindi gli errori si pagano. Questo tipo di campionato ha come presupposto il quello di lasciare spazio a tutti i componenti la rosa. Quindi è chiaro che tu in un modo o in un altro devi trovare il modo di dare un po' di spazio a tutti. È chiaro che ci saranno delle partite in cui bisogna fare delle scelte un poco più radicali e ne teremo conto. Ma partite come queste dove, almeno sulla carta, sulla nostra portata, si cerca anche di equilibrare un po' il team in modo tale che si dia spazio a tutti i componenti la rosa. Il fuorigioco non è una scelta tecnica. Noi come squadra non possiamo fare il fuorigioco perché non siamo abituati. Quindi se nella testa di qualcuno dei giocatori c'è quello di voler adottare questa modalità di gioco, non è condivisa dallo staff tecnico, per cui ne parleremo poi opportunamente durante il prossimo allenamento. Siamo in una fase abbastanza clou perché siamo più o meno a metà del percorso, ma bisogna lavorare ogni giorno con umiltà. Umiltà e dedizione e con lo spirito di collaborare con i compagni. Questo è quello che bisogna fare. Niente di più, niente di meno. L'importante di queste partite è giocarle. Sappiamo che c'è un grosso dislivello tecnico-tattico e una scala in un altro livello. Anche se forse oggi in campo non è sembrato, loro sono riusciti a chiudere la partita solo in pieno recupero. Penso che anche noi abbiamo otto le nostre occasioni. L'importante è dare sempre il massimo, poi quello che succede è relativo. Ce la giochiamo fino alla fine. Sicuramente la squadra del presidente amico mio, Olivio, lotterà fino alla fine per il campionato. È una delle quattro pretendenti, dunque noi non possiamo pretendere più di tanto a livello risultati. Però ce la siamo giocati, l'abbiamo messa in difficoltà, siamo andati addirittura in vantaggio. Forse troppo presto. Fare due gol, all'ottavo minuto già stavamo 1-2. Una partita giocata, tre gol in otto minuti è difficile da vedere. Poi dopo abbiamo mollato perché anche fisicamente siamo calati sicuramente. Abbiamo sprecato anche noi, perché abbiamo sprecato due o tre volte il pareggio del 3-3, la palla del 3-3. Loro sicuramente, come dicevamo, sono giocatori di un altro livello. È una squadra con una rosa ampia, tutti sullo stesso livello, tutti i calci, tutti i centri che si allena, che mangia poco, fisicamente stanno bene. Sono nata a cosa, cioè è un'altra squadra, è un'altra squadra. Comunque noi lottiamo sempre, come sempre, fino alla fine per cercare di ottenere il massimo. Questo è un campionato che più alla fine finisce a maggio, ci sarà ancora da giocare e poi vedremo dove meritiamo di arrivare. L'analisi della partita è difficile perché probabilmente il nostro approccio a questa partita non è stato quello dei migliori. Abbiamo pensato probabilmente di affrontare una squadra che era un attimino sotto la nostra possibilità di vittoria, però in realtà si sono dimostrati molto molto ostici, con dei attaccanti molto tecnici e con un giro di palla di centrocampo che hanno messo in difficoltà sicuramente i nostri terzini. Poi alla fine ci siamo resi conti che tanto semplice questa partita non era, ce la siamo complicata e con un po' di mestiere, con un po' di sagacia, siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante che il Presidente ci richiedeva perché approfittando della sosta della capolista in questo momento l'abbiamo superata e quindi siamo primi in classifica e questo ci riempie di gioia ovviamente. Cosa mettere a posto? Secondo me dei meccanismi tra centrocampo e difesa, nel senso che bisogna capire bene le posizioni dei nostri playmaker, bisogna capire bene i due esterni cosa vogliono fare, cosa devono fare e questo è chiaramente un lavoro che competerà a Mister Livio durante la settimana a mettere su carta. E' stata una grande partita, solo che abbiamo preso una squadra avversaria che era al top della squadra e purtroppo una bella prestazione, tra me e i miei amici abbiamo fatto una bella figura, quindi questo vale per la prossima volta. Delle volte penso di fare gol subito, poi sbaglio pure, delle volte si sbaglia, proprio la foca di fare gol si sbaglia, ma purtroppo il gol del 3-3 l'ho sbagliato, poi se è finita la partita come si vede. Stiamo andando benino, tra le piccole siamo la più brava, tra le grandi siamo sotto, si è visto la superiorità della squadra avversaria, nel secondo tempo ci ha messo sotto e ci ha fatto quello che ci doveva fare. va bene, ok grazie, arrivederci, mi passo un brattolo. questo programma è offerto da a tutti i miei amici. 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 a tutti i miei amici.